Ebbene sì, ragazzi, è stata ufficializzata l'irregolarità trovata sul fondo della monoposto numero 16 e sul fondo della monoposto numero 44. Ciò vuol dire che è stata ufficializzata la squalifica dal Gran Premio delle Americhe per mancata osservanza dell'articolo 3.5.9 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il comunicato è stato pubblicato alle 2.30 del mattino, la cosa è ufficiale. In un primo momento la federazione aveva diramato una presunta violazione del regolamento da parte di Ferrari e Mercedes, per poi successivamente confermare il tutto tramite il delegato tecnico della FIA. Cito le sue parole. Sulla vettura numero 16 e 44 è stato effettuato un controllo del pavimento, fondo specifica e del pattino plank. Gli skid parti metalliche poste sul pattino risultano non coinformi all'articolo 3.5.9e. Cosa dice brevemente questo articolo? Che parte del fondo, parte dello skid sono soggette a usura perché toccano il fondo, toccano l'asfalto, non possono superare i 10 mm di usura. Adesso come fai a controllare per bene questa usura essendo quella parte molto vicina all'asfalto? C'è un limite di tolleranza. Se mi sfori il limite di un millimetro sei ancora dentro, non è un problema. In questo caso anche il limite è stato sforato, di conseguenza il regolamento è stato violato, fidatevi che alzare poco la monoposto fa tanto, quindi questa usura può cambiare le sorti di una gara, dal regolamento non si scappa e quindi la squalifica è giusta. Già Toto Wolff ha confermato questa cosa, ha rilasciato delle interviste, ha detto che è stato un pugno sul mento, ma i controlli sono stati fatti anche sulle monoposto di Verstappen e di Norris, loro sono coinformi. E ciò vuol dire che Logan Sorgent ottiene il suo primo punto stagionale. Dopo parecchi anni, perché l'ultimo punto conquistato da un americano è forse con Andretti nel 93. E dunque la classifica finale diventa. Vince la gara Max Verstappen, secondo Lando Norris, terzo Carlos Sainz, quarto Sergio Perez, quinto George Russell. Russell aveva fatto una gara discutibile e adesso si trova addirittura in quinta posizione. Sesto Pierre Gasly, settimo Lance Stroll, ottavo Yuki Tsunoda, nono Alexander Albon e Logan Sorgent, primo punto per lui. Gran gara di Lance Stroll, alla fine sono contento che porta a casa questa settima posizione, ok meritata, ma dobbiamo dire che Aston Martin partendo dalla pit lane insieme all'As dove va a disputare una gara totalmente da ricostruire. Farà sicuramente bene il morale di Sergio Perez. Certo si vanno a omettere tanti discorsi, io ovviamente sto riregistrando questo video, il primo post GP l'avevo già fatto. Il discorso che facevo vertiva molto sui errori strategici di Mercedes e Ferrari, in maniera molto riduttiva ponevo delle domande, dicevo è davvero un errore quello che ha fatto Ferrari? Se paragonato e confrontato da un quello di Mercedes, facevo un discorso su McLaren che non voglio buttare, assolutamente non voglio buttare, è un video lungo, questo sarà un video lunghissimo probabilmente. Sarà il post GP dei vostri sogni, perché adesso sappiamo la classifica finale non è più questa, anzi vi dico anche come siamo a punti, perché col risultato precedente Lando Norris rimaneva in settima posizione a circa 3 punti di stacco da Charles Leclerc, adesso è a più 8 da Charles, superato quindi il pilota Monegasco. Mentre forse addirittura in classifica costruttori c'è andata meglio perché Lewis Hamilton portava a casa un sacco di punti, adesso col terzo posto di Carlos Sainz e la squalifica di Leclerc, chi sicuramente ha ricevuto un colpo grosso è Mercedes. E infatti la classifica costruttori adesso vede Ferrari addirittura a 20 punti di stacco da Mercedes, cioè paradossalmente c'è andata anche bene con questa squalifica. Vi lascio il discorso che ho fatto prima, ovviamente cercate di contestualizzarlo al fatto che sono cambiate le posizioni, quindi ci tengo alla vostra nei commenti. Vi lascio al video, ragazzi, buongiorno a tutti. Che splendida mattinata. Allora, oggi voglio aprire il video con una domanda. In base alle classifiche finali e ai risultati ottenuti sommando sprint e gara lunga, secondo voi chi è che ha perso di più? Mercedes che si è vista gettare alle ortiche la sua prima vittoria stagionale? Ferrari che poteva ottimizzare meglio il bottino? O McLaren che ha concluso la gara con solo una macchina? Poi, inevitabilmente oggi si andrà a parlare in maniera verticale solo ed esclusivamente delle strategie e direte voi, anche a ragione veduta, totalmente d'accordo perché due gare sono state compromesse. Lewis Hamilton conclude in seconda posizione quando poteva portare a casa una vittoria e Charles Leclerc conclude in sesta posizione quando poteva lottare per il podio, forse più realisticamente per la quarta posizione, ma comunque poteva giocarsela con Landon Norris. E se la vediamo così, giustamente, giustamente, siamo infastiditi, non è la prima gara che Mercedes o Ferrari mi sbagliano strategia, quest'anno Mercedes sta collezionando un sacco di gare sbagliate. Ferrari con Xavi Marcos ne ha vissute di cotte e di crude, lo sappiamo benissimo, ci credo che l'umore è a terra, però io ho voluto iniziare il video facendo un'altra domanda, chi ha perso di più? Perché sembra banale, ma in realtà forse la risposta non è neanche così semplice. Da un lato abbiamo Mercedes che consolida la sua seconda posizione nei costruttori, porta a casa 5 punti in più rispetto alla Ferrari, ma Ferrari poteva subire un colpo molto più grosso, perché Lewis Hamilton doveva portare a casa la vittoria oggi. E se non ho sbagliato i conti, anziché essere i 5, potevano essere i 12. Quando mancano poche gare, è tanto. Certo però, se pensi con McLaren e Norris adesso è a meno 3 da Charles Leclerc, la sua posizione è fortemente a rischio, poi McLaren ha anche superato Aston Martin nella classifica costruttori, Però anche qui poteva andare molto peggio, perché Oscar Piastino non ha portato a casa la macchina. La Ferrari, in fin dei conti, e lo so che non fa piacere, però in fin dei conti ha rispettato quelle che erano le premesse del Gioveni. Quarta forza nei costruttori, Wiccan in difesa. Urta, è fastidiosissimo vedere una strategia sbagliata, ma c'è chi ha fatto peggio. Personalmente reputo la strategia Mercedes più suicida di quella Ferrari, perché con la V14 si sapeva che si aveva un passo buono, E che Verstappen poteva trovarsi in difficoltà contro Hamilton, e alla fine l'ultimo giro, da un po' dimostrato, ha sudato tanto per mantenere la prima posizione Verstappen. Per la prima volta l'abbiamo visto forse davvero in difficoltà, anche nei modi con cui comunicava al muretto box, l'ambiase poveretto. Ma col senno di poi, anche se è andata male, il tentare di portare a casa un podio, o qualcosa meglio del podio, anziché un quarto e un quinto posto, Mettendo in preventivo che, se fosse andato tutto male, portavi a casa un quinto e un sesto, o anche un quarto e un sesto, e alla fine quarto e sesto è portato a casa, Ma il rischio lo prendi anche. Fai me la colpa se sbagli, perché devi fare bene i conti. È una scelta rischiosa, però fattibile. Tra il primo e il secondo posto ci sono più punti in palio rispetto al quinto e al sesto. È così, perché poi c'era Sainz lì vicino. Lo gestisci. Non voglio però giudicare troppo la scelta strategica, se devo dirvi la mia. Io, personalmente, da casa, sul divano, che è tutto molto più semplice, avrei preferito non rischiare nulla, anche perché Ferrari montava un setup leggermente più scarico, che avrebbe mangiato di più le gomme. Sapendo questo, non avrei rischiato, però analizziamo la cosa a 360 gradi. È andata davvero così male, sapendo che McLaren ha corso con una sola auto e che Mercedes... Anche Mercedes, Russell l'ha fatto due volte settimo. Prego, oggi vi ho dato in pasto una patata molto bollente, però effettivamente la situazione è molto chiara, qui non è. Ovviamente, se valuto la singola strategia e dico, che cosa avete fatto ragazzi, non dovevate farlo. Lo stesso vale anche per Mercedes. Ripeto, la scelta di Mercedes a parer mio è anche un pelo più sbagliata rispetto a quella di Ferrari. Nessuno dei due team, sapendo che monoposto avevano in mano, dovevano rischiare. Ma ho deciso di impostare l'inizio video con un punto interrogativo, perché volevo vedere un po' l'opinione generale. Certo però, Mercedes oggi doveva davvero ottimizzare, Russell ha portato a casa due settimi posti. È da un po' che George non lo vedo proprio tranquillo nella guida. La gara di Lewis Hamilton, sì, è stata compromessa anche dalla strategia. Se proprio devo identificare un momento, vi dico, giro 18, giro 19, giro 20. Quando i diretti rivali, Verstappen principalmente, giravano sul 41, mentre loro girava sul 43, 5, 43, 8. Lì sono secondi che perdi, poi c'è stato anche un lungo di Lewis Hamilton, non dimentichiamocelo in curva 12, dove l'ha più o meno ha perso 9 decimi. Questi sono stati gli errori gravi che l'hanno un po' castigato. Gli aggiornamenti hanno abbastanza fruttato, non mi sento di dire, come ha detto Lewis, che quel fondo nuovo dà un decimo a questa V14. Penso che abbiamo riscontrato anche un po' le stesse caratteristiche del Qatar. Voglio vedere altri circuiti. Ma sicuramente oggi la V14 era la prima macchina in pista, la seconda al pari della RB19. Per questo lo possiamo dire. Abbiate bontà, perdonatemi la lunghissima digressione fatta su Ferrari e Mercedes. Questo video, in prospettiva, esce lunghissimo. Cerco anche un po' di accorciare. Di meccanare non c'è tantissimo da dire. Mi aspettavo forse un pelo meglio da Oscar Piastri, che in realtà non è mai stato davvero sul pezzo. Addirittura canonato Estebano Conn, buco sui sidepots, è costretto a ritiro. Entrambi costretti a ritiro. E due team che mi hanno molto sorpreso a inizio gara e deve far riflettere, non deve passare anche questo in secondo piano, sono Aston Martin e As. Perché cito questi due? Fernando Alonso alla fine non ha concluso la gara, ha avuto problemi con le sospensioni. Lance Strolli in realtà ha fatto un'ottima rimonta e c'entra la zona punti. Però entrambi i team sono stati costretti a rompere il regime di parco chiuso per setappare bene la macchina. Perché avevano un catorcio in mano. Qui anche è tema di dibattito, perché è giusto far fare ai team solo un turno di prove libere, quindi colpa di Aston Martin, colpa della As che non hanno trovato la giusta quadra? O è colpa del format che non mette nelle giuste condizioni i team nel fare un buon setup? Alla fine qualcosa da recriminare, ce l'ha anche McLaren, non ha ottimizzato bene il bottino se pensiamo a che macchina hanno. Ferrari alla fine oggi si è difesa in trazione, in rettilineo e basta, non aveva il passo. A un certo punto inizio gara tutti erano sul 42.5, 42.6, Leclerc era sul 43.1, 43.0. E dunque tema di dibattito, che potrebbe anche sfociare sulla sicurezza, non voglio però andare in quel ramo lì. Dobbiamo dare merito alla Ferrari che su 4 sprint 4 volte si è trovata preparata e la sprint race l'ha sempre ottimizzata, portando a casa anche un podio con Charles Leclerc adesso. Bravi quindi quelli di Maranello o cattivi quelli della FIA, diciamo così, o la federazione che non ha preso proprio bene le misure con un format che poi alla fine non è che ci ha regalato chissà quanto al sabato. Ma va bene così, abbiamo affrontato anche questo tema. Bene, detto questo ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate i link per i miei riferimenti social, abbiamo il canale Whatsapp, abbiamo il canale Instagram, abbiamo canali ovunque, il canale YouTube. Ragazzi iscrivetevi, attivate la campagna delle notifiche, like se non l'avete ancora fatto, io penso vi posso andare in pace. Ragazzi vi saluto, da Tonio era tutto, passo e chiudo.